Dalla serie A alla serie B e dalla serie B alla serie C, il tutto in un paio di stagioni. La storia del crotone prossima, versato il lavelino in campionato, parla chiaro. Nello scorso campionato, nonostante il mercato faraonico, la società guidata da Evrenna ha salutato la cadetteria, completando così una rovinosa doppia discesa in due anni. Il crotone ne ha cambiato un paio dei allenatori durante lo scorso anno. Ha iniziato in panchina con Francesco Modesso, che a fine ottobre ha lasciato il posto al più esperto Pasquale Marino. Ma neppure quest'ultimo è riuscito a cambiare le sorti della squadra, e così, a metà dicembre, ecco un nuovo cambiamento, con il ritorno di Modesto. Nemmeno i ribaltoni hanno aiutato la società Rosso-Blu. Riavvolgendo il nasso della memoria, il crotone nella stagione 2015-2016 conquista la prima storica promozione in massima serie targata Ivan Juric. Il primo successo in Serie A arriva contro il Chievo Verona, con le reti siglate da Diego Falcinelli e Marcello Trotta, sotto la gestione di Davide Nicola. Quest'ultimo con la maglia dei Pitagorici collezione, in due anni 63 presenze e 10 reti. Il 28 maggio la compagine calabrese, a suggerio di una grande rimonta, sconfiggere a Lazio 3 a 1 e ottiene la salvezza nella stagione di esordio in Serie A, beneficiando della sconfitta dell'Empoli in casa del già retrocesso Palermo, sconfitta che condanna i toscani alla retrocessione in Serie B. La salvezza del crotone ha del clamoroso, dato che mai una squadra era riuscita a salvarsi in Serie A, doveva aver raccolto così pochi punti nel girone di andata. Per la sua seconda stagione in massima serie, nel 2017-2018, il crotone conferma la guida della squadra allenatore Davide Nicola, mentre l'assetto societario cambia radicalmente. Nel dicembre del 2017, l'allenatore Davide Nicola rassegna le proprie dimissioni, gli subende la zinga, che ottiene la sua prima vittoria contro il Chiuveruna. A causa di alcuni risultati negativi nelle ultime giornate, anche il calendario complicato, il crotone, pur rimanendo in corsa fino all'ultima giornata, non riesce a salvarsi. La stagione seguente, malgrato i favori dei pronostici, vede il crotone in difficoltà in campionato in Serie B. Il nuovo allenatore, Stroop, è esonerato nell'ottobre del 2018, dopo nove giornate e rimpiazzato da Oddo, che ottiene solo due punti in sette giornate e si demette negli ultimi giorni di dicembre. Al suo posto venne richiamato Stroop, che portò il crotone alla salvezza all'ultima giornata di campionato, dopo un redditizio girone di ritorno con ben 30 punti ottenuti. Contro ogni aspettativa, nel campionato di Serie B 2021-2022, il club retrocede in Serie C con due giornate d'anticipo, tornando così a disputare la terza serie dopo 13 anni. Oggi il crotone è un'alità che punta alla risale di in Serie B immediata, la riprova e la classifica e soprattutto la programmazione della società.